Caro popolo d'Egitto, al-salamu alaykum, la pace sia con voi. Con cuore gioioso e grato verrò tra pochi giorni a visitare la vostra cara patria, culla di civiltà, dono del Nilo, terra del sole e dell'ospitalità, dove vissero patriarchi e profetti ed ove Dio, clemente e misericordioso, l'Onnipotente e unico, ha fatto sentire la sua voce. Sono davvero felice di venire come amico, come messaggero di pace e come pellegrino nel Paese che diede più di duemila anni fa rifugio, ospedalità e la Sacra Famiglia, fuggita dalle minacce del re Erode. Sono onorato di visitare la terra visitata dalla Sacra Famiglia. Vi saluto cordialmente e vi ringrazio per avermi invitato a visitare l'Egitto che voi chiamate «Umildumna, Madre dell'Universo». Ringrazio vivamente il Signor Presidente della Repubblica, Sua Santità, il Patriarca Tawadro II, il Grande Imam di Al-Azhar e il Patriarca Copto Cattolico che mi hanno invitato. E ringrazio ciascuno di voi che mi fate spazio nei vostri cuori. Grazie anche a tutte le persone che hanno lavorato, stanno lavorando per rendere possibile questo viaggio. Desidero che questa visita sia un abbraccio di consolazione e di incoraggiamento a tutti i cristiani del Medio Oriente, un messaggio di amicizia e di stima a tutti gli abitanti dell'Egitto e della Regione, un messaggio di fraternità e di riconciliazione a tutti i figli di Abramo, particolarmente al mondo islamico, in cui l'Egitto occupa un posto di primo piano. Auspico che sia anche un valido contributo al dialogo interreligioso con il mondo islamico e al dialogo ecumenico con la venerata e amata Chiesa Copto-Ortodossa. Il nostro mondo, dilaniato dalla violenza cecca che ha colpito anche il cuore della vostra cara Terra, ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. Ha bisogno di operatori di pace e di persone libere e liberatrici, di persone coraggiose che sanno imparare dal passato per costruire il futuro senza chiudersi nei pregiudizi. Ha bisogno di costruttori di ponti di pace, di dialogo, di fratellanza, di giustizia e di umanità. Cari fratelli egiziani, giovani e anziani, donne e uomini, musulmani e cristiani, ricchi e poveri, vi abbraccio cordialmente e chiedo a Dio Onnipotente di benedirvi e di proteggere il vostro Paese da ogni male. Per favore, pregate per me. Grazie e viva l'Egitto.